Dopo mille riflessioni e tentennamenti Jessica Vella sembra essersi finalmente abbandonata alla passione. La giamella bionda si sarebbe lasciata andare ad un rapporto sessuale completo insieme a Kevin con il quale flerta sin dai primi giorni di permanenza nella casa del grande fratello 2015. La rivelazione è arrivata via social da un tecnico del reality che però preferisce rimanere nell'anonimato. Ecco quello che ha postato sul web. E il sesso al grande fratello arrivò. Ieri pomeriggio rapporto sessuale tra Barbara e Manfredi a sorpresa stamattina alle 4.30 rapporto completo tra Jessica e Kevin. Ora siamo tutti più sereni no? Ma questo sviluppo nel rapporto tra Jessica e Kevin non ha colto di sorpresa nessuno anzi era ormai nell'aria. La ragazza si era anche confidata con l'amica del cuore Federica Lepanto e con l'ex cognato Alessandro Calabrese sull'intenzione di viversi l'attrazione per Kevin senza farsi troppi scrupoli. E alla fine così è stato. Nulla di scandaloso. Non fosse altro che fuori dalla casa Jessica ha un fidanzato che l'aspetta e a questo punto sicuramente non ha braccia aperto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.